il dolore a volte si esprime restando muto, quindi io a voi come a tutti gli altri devo chiedere scusa non mi sento di dire niente verrà un tempo per parlare della grandezza di questo poeta in questo momento, solo il momento del poeta fino ad oggi l'Italia non l'ha riconosciuto abbastanza, la sua grandezza stasera maestro farete a Corchiano uno spettacolo di Viaggio di Unice si, gli dedicheremo la serata faremo un suo ricordo per lui e gli dedicheremo la serata la serata di Beneficenza, la dedicheremo a lui lui era quasi un cittadino onorario, un amante della Tuscia si, grazie